buongiorno a tutti eccoci come solito al nostro appuntamento i libri parlano oggi abbiamo con noi chiara micheli ciao chiara ciao ciao a tutti come stai chiara bene tu sì 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 abbastanza bene ti vedo molto sorridente per cui sempre quello sorriso è importante e come dicevano il sorriso è un modo poco costoso per migliorare il proprio aspetto per cui è bene ti ringrazio innanzitutto per questa bella opportunità che mi hai dato e ogni volta che parlo di questo racconto che è appena uscito appena pubblicato sicuramente per me è un regalo quindi ti ringrazio io allora io sono una social media manager che proviene dal mondo del turismo degli eventi e fino a prima della pandemia era praticamente il mio settore dove mi sono formata dove sono cresciuta e dove mi sono occupata come meeting planner e come direttore tecnico di agenzia appunto di meeting e ho lavorato per gli importanti tour operator e per agenzie di eventi e poi è arrivata la pandemia quindi ho pensato che con lo stop ai nostri settori di acquisire nuove competenze e quindi il digitale è il nostro futuro quindi sicuramente ho pensato appunto a riqualificarmi nell'ambito digitale quindi diventando social media manager certificata e operando a tutto oggi in questo settore e nel frattempo però di essere dedicata anche alla scrittura sì perché praticamente con il primo lockdown e quindi il fatto di averci regalato per chi ha avuto la fortuna di non essere stato toccato nella salute da questo evento storico pandemico ci ha regalato però il tempo e con il tempo sono subentrata in tutta una serie di dinamiche che hanno dato la possibilità di coltivare delle passioni che già c'erano e tra queste per me la scrittura e proprio quando tutto era fermo invece io ho agito e è nato a viaggio leggera hai qui con te il libro? aspetta che sì ce lo dovrei avere però lo devo andare a prendere ti aspettiamo va bene torno subito ci fai vedere gentilmente il tuo libro eccolo viaggio leggera viaggio leggera sì ma il titolo viaggio leggera da cosa trae origine? trae origine da un obiettivo da raggiungere che è quello appunto di essere leggeri di viaggiare leggeri un atteggiamento nella vita quando lasci andare le zavorre bagagli che ti hanno appesantito problemi che hai avuto magari in passato cose del genere lasci tutto andare e ritrovi quella leggerezza che poi ti dà la gioia e ti fa apprezzare anche le piccole cose ecco questo è l'obiettivo a cui bisognerebbe tendere secondo me ascolta ma se il sogno alimenta il nostro desiderio per te il coraggio lo rappresenta? beh il coraggio è quella freccia che ti fa raggiungere il sogno è praticamente l'antidoto alle nostre paure il coraggio è fondamentale è un grandissimo valore che credo che tutti noi abbiamo però non sempre siamo capaci di prendere quella freccia per arrivare all'obiettivo ecco e il viaggio leggera ti insegna ad avere coraggio? ma viaggio leggera più che altro ti insegna a riconoscere l'opportunità nella crisi perché secondo me ogni crisi nasconde un'opportunità e infatti il messaggio di questo racconto breve che nonostante il suo formato è un messaggio forte è quello appunto di riconoscere nelle crisi delle opportunità che possono veramente trasformare la crisi in un vantaggio in un vantaggio per la nostra vita quindi ci insegna a guardare il bicchiere sempre in mezzo pieno? è un messaggio sicuramente positivo però ci insegna a amarsi di più e riconoscere dentro di noi quelle cose che possono essere veramente dei punti di forza dei punti di forza che vanno riconosciuti e che vanno in ogni caso seguiti un po' come i sogni e Chiara ha coraggio guarda Chiara è nata coraggiosa temeraria e coraggiosa temeraria, coraggiosa purtroppo è di quelle un po' che di fronte a un sentiero battuto e un sentiero di montagna sceglie il sentiero di montagna e quindi con tutto quello che il sentiero di montagna fino alla vetta ti può dare ecco una bella sfida Ti è mai capitato di correre incontro al sogno gettando il timore oltre l'ostacolo? Eh sì, mi è capitato mi è capitato diverse volte e l'ultima volta appunto mi è capitato proprio un anno fa quando è arrivata la pandemia un po' sconvolto tutta in tutti i miei equilibri e in quel caso bisogna sicuramente riprendere un po' i sogni come se fossero degli aquiloni e ritornare a crederci e a quel punto buttare veramente oltre l'ostacolo le nostre paure, i nostri timori Ma il libro vuole essere un messaggio di libertà, secondo te? Il libro vuole essere un messaggio Cioè essere coraggiosi vuol dire essere liberi? Ma essere coraggiosi secondo me sì essere liberi là dove il coraggio serve per rompere diciamo le gabbie che ci siamo costruiti anche le gabbie dorate oppure quelle situazioni di comfort che da una parte ci rassicurano ma dall'altra non ci fanno dimostrare tutto quello che possiamo essere di migliore perché comunque noi abbiamo dei grandissimi margini di crescita che nemmeno noi ci immaginiamo soltanto uscendo e agendo dalla zona del comfort che noi veramente capiamo quanto è possibile ancora crescere sempre, insomma, in ogni momento Questo libro ha tirato fuori in te un sogno? Sì, questo libro per me era uno dei sogni era uno dei sogni scrivere e pubblicare un libro era nella mia lista dei sogni che dovevo depennare un po' e poi quando siamo arrivati al dunque ho guardato quello che avevo scritto poi ho detto ma lo rimetto nel cassetto oppure gli do una possibilità e allora questa volta ho detto no, questa volta osa, sogna, ama proviamo, proviamoci dai Ma ascolta, e qual è stata la scintilla che ti ha illuminata per tirare fuori dal cassetto questo tuo sogno? Da cosa ti è nata? Che cosa hai sentito dentro di te il desiderio di tirare fuori dal cassetto questo tuo... Perché non è nato da una riflessione questo libro per cui o da una ricerca particolare del soggetto piuttosto dal rispetto di una certa forma di scrittura è nata proprio di getto è nata proprio dall'istinto dalla voglia di scrivere quindi in questo caso ho pensato che magari dandogli visto che era nata in questo modo ho pensato che dandogli una possibilità forse ci sarebbe stato qualcun altro che avrebbe apprezzato questo scritto Quindi lo porti come testimone per essere più coraggiosi Sì, testimone per essere più coraggiosi perché bisogna anche osare ogni tanto provare a darsi una possibilità e misurarsi anche con le cose perché soltanto in questo modo magari si può scoprire qualcosa di inaspettato che forse da noi non è percepito ma che invece gli altri possono percepire al posto nostro provare un po' a buttarsi ogni tanto Che effetto ti ha fatto quando hai visto questa copertina con il tuo nome, con il tuo titolo e con il tuo sogno Qual è stata l'emozione che hai provato quando ti sei trovata di fronte al prodotto del tuo sogno? Ma guarda, è stata sicuramente un'emozione grande qualcosa che hai seguito passo passo fino a quando non sei entrato a quel giorno dalla Feltrinelli per dire a Pisa e hai cercato ovunque poi alla fine l'hai trovato su una mensola e boh l'imperliti sembrava di qualcun altro invece poi era proprio quello che avevi scritto tu quindi una bella emozione Ci fai rivedere la copertina? Eccola qua con i tulipani e la valigia Ecco, cosa significano i tulipani? Ma sai che sono andata a cercare il significato dei tulipani perché la protagonista di Viaggio Leggera è appunto una fioraia che è una ragazza che ha una laurea in lettere antiche che non è riuscita a spendere e ha pensato di aprire un negozio di fiori e il tulipano è il simbolo di un amore sincero di un sentimento sincero e quindi i tulipani perché comunque penso che la sincerità paghi sempre in ogni caso sia nello scrivere che nei sentimenti Sempre e comunque Sempre e comunque, sì Chiara, sei stata meravigliosa Grazie Grazie e mi auguro che veramente il tuo sogno non ti porti a fare altri sogni Lo spero Non smetto di sognare in ogni caso Assolutamente mai E il tuo cassetto, il nostro cassetto deve essere sempre vuoto Sempre vuoto Quindi tirare fuori sempre qualsiasi cosa dal cassetto perché dentro il cassetto non ha senso che rimanga Non serve nessuno Non serve nessuno Infatti Se posso dire solo una cosa approfitto per il tuo spazio e dire soltanto che questo racconto ha uno shop una cosa molto commerciale che si chiama La collana di perle perché l'intenzione mia sarebbe quella di appunto di scrivere altri racconti quindi la prima perla è Viaggio Leggera e le altre perle insomma vedremo Sono già in cantiere? Sì Il prossimo sì è già sto già scrivendo e quindi va avanti Lo aspetteremo insomma lo aspettiamo Nel frattempo ci dedichiamo a questa lettura Sì va bene Grazie ancora per lo spazio che mi ha concesso Ciao Grazie e alla prossima puntata Ok Ciao 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 Ciao